buonasera a tutti volta a espagna 2022 presentazione del percorso siamo infatti già giunti al terzo grande giro stagionale sebbene sembra ieri il tour de france si sono tour de france che è stato certamente molto spettacolare con il duello tra bingard e pogaccia e la vittoria finale del danese della jumbo isma prima di iniziare a vedere però che cosa ci aspetta nelle prossime tre settimane faccio una comunicazione di servizio come molti di voi già sanno esiste un canale telegram che si chiama ciclismo grandi giri tutto attaccato in cui vengono sono state pubblicate le corse dal 2018 al 2021 inoltre sempre su telegram c'è un secondo canale ciclismo grandi giri 2 usate per l'originalità in cui vengono caricate le stesse cose ma informato mp4 in modo tale che sono visualizzabili senza dover scaricare completamente e inoltre non c'è il problema che alcune cose in avi non si riusciva a scaricarle poi è spiegato su telegram questa cosa e questo ecco per segnalarvi appunto questi due canali ovviamente a termine della stagione verranno caricate le cose del 2022 bene passiamo alla volta che come possiamo vedere scatta dall'olanda da utrecht con una conosquadre di 23,3 chilometri completamente pianeggiante ha da tanto tempo che non c'è una conosquadre in generale in un grande giro e come invece la troviamo qui nella corsa tappe iberica che parte però come detto dall'olanda e sempre in olanda si disputeranno le due tappe successive la seconda tappa è infatti una frazione di 175 chilometri da center toghenbosch a utrecht center toghenbosch è il punto orico del tour de france nel 96 se non erro comunque a metà degli anni 90 e c'è un gran primo della montagna che assegna la prima maglia a poire si sale fino a 70 metri di vuota niente meno alto de ameronsche e ovviamente siamo ci sarà una rima in volata bisogna fare attenzione al vento che in olanda spesso è molto forte siamo vicini al mare tra gli altri e questo discorso vale anche per la terza tappa da breta a breta 193 chilometri ecco qui troviamo addirittura un gran primo della montagna un'altitudine di 25 metri ora io per andare al mare da casa mia il mare dista 3 chilometri e arrivo chiaramente a 0 metri di quota a livello del mare e però casa mia che è a 3 chilometri sta a 54 metri di altitudine insomma non è che ci siano queste grandissime salite anche per tornare e 54 però è il doppio di 25 ovviamente anche questa è una tappa per velocisti primo giorno di riposo si torna in spagna si va nei paesi baschi da vittoria castezza alla guardia 152 chilometri e mezzo c'è il puerto del vera nel finale una salita non durissima ma impegnativa nei primi chilometri che potrebbe tagliare fuori velocisti anche perché l'arrivo in leggera salita un arrivo adatto probabilmente a corrido come la philippe o come il valverde degli anni migliori valverde che disputa la sua ultima vuelta lui che ha 42 anni e una ricordiamo appunto siamo nei paesi baschi una volta questa non transitava mai nei paesi baschi non solo i tempi di francisco franco ma anche il seguito nei paesi baschi c'è un forte sentimento e indipendentista e c'è il pericolo dell'eta ora queste vicende insomma sembrano superate la volta da un po di anni in transita piuttosto regolarmente da queste parti nei paesi baschi c'è una grandissima passione del ciclismo e infatti anche nella giornata successiva si resta in queste zone tappa da iuna bilbao 187 chilometri cinque gran premio della montagna posti nella seconda metà del percorso per cui l'alto del viveva una salita di 4 chilometri circa però piuttosto impegnativa con pendenze anche dell'8 9 per cento qui ci fu il duello tra fumo e cobo su questa salita nel 2011 chris fumo cercò di staccare lo spagnolo non ci riuscì cobo vinse la volta però poi fu squalificato per doping quindi fumo venne dichiarato vincitore qualche anno dopo tra l'altro fumo che ci sarà in questa volta 2022 poi ne parleremo tra due giorni quando faremo un nuovo video dedicato al ai protagonisti di quelle che sanno le prossime tre settimane sesta tappa da bilbao al picoliano primo vero arrivo in salita in precedenza si scaleranno anche il puerto di isas che è molto lontano dal traguardo e poi una salita già abbastanza impegnativa la cogliata del benes che possa invece a 36 chilometri appunto dall'arrivo ci saranno le prime scaramucce dagli uomini classifica sempre che non ci siano già state il giorno prima sul riparo e andiamo a vedere queste salite questa è la penultima salita di giornata una salita non lunghissima sui 6 7 chilometri ma come possiamo vedere piuttosto dura pendenze spesso intorno al 10 per cento punta del 15 e questa invece è l'ascesa finale piccoliano diciamo una salita che si divide in tre tronconi la parte più impegnativa è la prima che presenta punto del 12 per cento poi c'è un falso piano metà gli ultimi 5 chilometri nuovamente all'insupero con pendenze un po più blande del 6 7 per cento anche se c'è una punta all'11 vedremo comunque se sei big qualcuno dei big provi a muoversi già in questa occasione passiamo alla settima tappa da camargo a sistierna c'è una salita lunghissima a metà percorso il quarto di sanglorio che potrebbe tagliare fuori velocisti è probabile che ci sia una fuga in questa tappa la classifica sarà già stata delineata dopo le due giornate precedenti poi è chiaro che le squadre velocisti potrebbero affrontare il sanglorio molto piano e dare tutto nei chilometri precedenti e successivi per far sì che comunque ci sia un arrivo allo sprint tappa delle soluzioni incerte una tappa di 190 chilometri non si supereranno mai i 200 in questa volta anche se si non si andrà neppure quasi mai sotto 150 insomma i 200 chilometri compaiono sempre più di rato nei grandi giri negli ultimi anni anche il giro d'italia che di solito è quello che presenta le tappe più lunghe ottava tappa no questo il puerto di sanglorio come possiamo vedere una salita interminabile ma senza grandi pendenze c'è un piccolo tratto all'undici per cento metà scesa per il resto sempre intorno a 5 6 7 per cento e come dicevamo passiamo all'ottava tappa e che qui che presi invece presento una salita vera nel finale arrivo in salita a con la francaio la tappa di 153 chilometri partenza dalla pola lieviana dall'altro partenza in salita con l'atto dei cogliadona che una salita breve piuttosto dura siamo nelle asturie e poi altri quattro gran premi della montagna tutte salite brevi piuttosto brevi ma anche piuttosto impegnative andiamo a vedere però l'ascesa finale direttamente e la parte finale degli ultimi tre chilometri sono quelli più duri compendenze anche dal 17 per cento proprio in vista del traguardo e comunque mediamente sempre intorno al 10 ma addirittura a metà della scesa c'è una punta anche al 19 per cento certamente ci sarà sezione tra gli uomini classifica passiamo alla nona tappa siamo sempre della studio da villa visiosa all'ex price 171 chilometri anche qui quattro gran premi della montagna posti lungo il percorso tra cui il mio d'oro del fito che di solito precede l'agos dei covadonga ma che invece qui viene affrontato nella parte centrale del percorso e gli ultimi quattro chilometri sono durissimi su queste rampe nel 2018 vinse simon yates anche se non ci furono grandi distacchi tra i big simon yates che si aggiudicò anche quella di zona della vetta e salta i favoriti anche di questa ecco questo è il mio d'oro del fito e possa metà percorso tendenze costanti intorno al 7 per cento anche se c'è un tratto in fasso piano a metà e però soprattutto vediamo la salita finale durissima insomma con dei muri anche del 23 24 per cento e e comunque siamo costantemente sopra il 10 per cento salvo un piccolo tratto a un chilometro dal traguardo secondo giorno di riposo e ci si sposta ad elce con una con l'unica cronometro individuali questa edizione della vetta una grono completamente piatta di 30,9 chilometri con arrivo ad alicante una crono che rimescolerà le carte dopo i due arrivi in salita precedenti bene e passiamo quindi alla tappa numero 11 che va da el pozo a capo de gata una tappa piuttosto lunga per gli standard di questa volta 191 chilometri però senza difficoltà altimetriche con ogni probabilità ci sarà un arrivo per velocisti dodicesima tappa e qui si torna invece a salire da salubrena all'auto dei pegnas blancas una tappa di 192 chilometri in verità l'ultima salita è l'unica salita anche di giornata al di là di questo di un tratto centrale un po vallonato una salita molto lunga di 19 chilometri anche se non durissima è stata affrontata nel 2013 vinse leopold kevig non ci fu uno grande distacchi tra i big anche perché si è ancora all'inizio della vuelta in quell'occasione questa che fu vinta dal del veterano chrisone davanti a vincenzo nibali e andiamo a vedere la salita finale qua qua ci sono delle punte a 14 15 per cento però nel complesso è una salita costante intorno al 7 8 per cento una salita però come detto molto lunga e quindi potrebbe comunque esserci sezione tra i big che bisogna vedere chi avrà il coraggio di attaccare anche un po lontano dal traguardo passiamo ora alla tredicesima tappa da ronda a montiglia dovrebbe essere una tappa per velocisti anche se il finale è leggermente all'insù insomma si arriva si passa dei 200 metri intorno ai 6 7 chilometri dal traguardo e 383 dell'arrivo che a sua volta dovrebbe essere in leggera ascesa quindi potrebbe velocisti puoi potrebbero essere tagliati fuori passiamo alla quattordicesima tappa ne siamo in andalusia nel sud della spagna si va da montoro a sierra della pandera 160 chilometri anche questa è una tappa praticamente unipuerto monosalita diremmo italiano nel senso che c'è un'unica vera salita quella finale e si è preceduta dal puerto dello svigliares però e lo svigliares la pandera sono praticamente a stessa salita prima c'è il puerto de siete pias una scesa di terza categoria poco significativa e corsiero della pandera si è arrivati per la prima volta vent'anni fa vinse roberto eras davanti a gilberto simoni questo è stato a lungo una base militare sia spagnola che americana ed è una scesa una scesa non regolare presenta tratti molto impegnativi alternati ad altri più semplici nel 2000 si è arrivati qui anche altre volte nel 2003 vinse aleando valverde che per la cronaca sarà ancora in gara in questa occasione nel 2009 vinse damiano cunico che è in fuga nel 2017 si è arrivati qui per l'ultima volta e vinse la famaica anche lui e fuga ci fu battaglia tra i tre grandi big insomma del dei corsi a tappe lo scorso decennio vale a dire alberto contadosco is from vincenzo nibali che però arrivano sostanzialmente insieme al traguardo ecco andiamo a vedere questa è l'altimetria proprio dell'ascesa finale di siera della pandera come possiamo vedere diversi tratti anche a 14 15 per cento ma anche una discesina posta in vista del traguardo e qualche tratto meno impegnativo una salita che ricorda molto il lagos de coradonga per tipologia anche se siamo in una in tutt'altra zona della spagna ecco sempre siamo come detto in andorosia e in andorosia l'altra la grande salita di di questa regione è quella sia la nevada e si arriva ai 2512 metri di quota in occasione della quindicesima tappa 152,6 chilometri partenza da martos una salita durissima già in precedenza all'alto del pulce poi discesa e poi la lunga salita finale verso il traguardo una salita che non è più quella che si faceva fino a una decina di anni fa ovvero con una grande autostrada praticamente una strada molto larga senza grandi pendenze che portava appunto a sera nevada ma ben sì c'è un tratto iniziale durissimo prima di rientrare in quella che è la strada principale la tappa è simile anche se non uguale a quella del 2017 quando contadoro andò ancora una volta all'attacco in compagnia di miglia anche lopez e tuttavia il madrileno cedette mentre lopez riuscì a portare a termine vittoriosa quella troppo quella prova e dimostrando le sue dodi di scavatore specialmente quando si raggiunge un altitudine appunto come in questo caso di 2500 metri diciamo che sia della pandera sia della nevada vengono spesso affrontate in coppia è accaduto nel 2002 nel 2003 e appunto anche nel 2009 e poi 2017 in quest'ultima occasione come detto ha imporsi con miglia anche lopez questa è la salita dell'alto del pulce come possiamo vedere una salita già questa molto impegnativa con punto del 15 a 7 per cento nel finale ma pendenze costanti tra il 7 e il 9 per cento e poi la salita finale come detto la prima parte durissima i primi 45 chilometri con pendenze sempre ben oltre il 10 per cento 12 17 addirittura 20 per cento del primissimo tratto e poi c'è la tradizionale salita della sera nevada con pendenze costanti intorno al 6 7 per cento che però un po per le altitudini e un po per gli sforzi fatti nei chilometri precedenti e nella giornata precedente colorivo la sede a pandera ecco anche questi ultimi chilometri potrebbero mettere in crisi qualche uomo di classifica passiamo ora dopo il terzo e ultimo giorno di riposo alla sedicesima tappa da san lucardo e barameia a tomares in quella che dovrebbe essere una tappa dei velocisti anche se il finale è leggermente vallonato diciassettesima tappa da arasena a monasterio detentuda la tappa un po particolare 162,3 chilometri anche qui una sola vera salita quella del traguardo una salita non durissima ma che comunque presenta negli ultimi 4 chilometri come vediamo pendenze costantemente del 7 8 per cento e con una punta anche al 12 una salita che ricorda un po quella del santuario del castelmonte del giro d'italia anche se non c'è il colovrat prima come avvenuto invece la corsa rosa potrebbe esserci comunque qualche scaravuccia tra gli uomini di classifica anche se ovviamente i distacchi saranno minimi e sarebbe una tappa ideale proprio per valverde e per lo stesso la filippe insomma non ha paura certamente di salite di questo tipo e vedremo poi quale sarà la condizione di ambe due passiamo alla diciottesima tappa altro rimo in salita da truillo all'alto del piornal 192 chilometri l'alto del piornal che viene affrontato due volte anche se da due versanti diversi tuttavia va detto che non è una salita durissima in entrambe le occasioni e vediamo infatti questa è la prima scesa al piornal con pendenze insomma che di rado superano il 5 per cento al di là di una punta del 12 e un paio di chilometri dalla vetta leggermente più impegnativa la salita finale una salita anche qui di circa 12 chilometri però con pendenze sempre intorno al 5 6 per cento al una piccola punta dell'11 potrebbe non succedere nulla tra gli uomini di classifica la salita ricorda un po' quella di picco pilluercas della volta 2021 in cui vinse romain bardet e in cui non ci fu battaglia tra i bigli chiaramente bardet in quell'occasione era fuori classifica passiamo ora alla diciannovesima tappa da talavera dell'arena a talavera dell'arena quindi un circuito praticamente riaffrontato per due volte caratterizzato dalla salita del puerto del pielago una salita non durissima di 9 chilometri circa con pendenze intorno al 5 6 per cento non è una tappa per velocisti e non è una tappa neppure per uomini di classifica a meno che questa non sia molto ristretta e allora i bigli non cerchino qualsiasi occasione per poter attaccare dovrebbe essere una tappa da fuga anche perché il giorno successivo ci attende l'ultima grande tappa di montagna da moral azar a puerto della maserrada siamo sulla siera madrilena che essendo vicino a madrid spesso ospita l'ultima tappa di montagna della vuelta insomma ci sono le tre salite tradizionali diciamo di questa di queste zone il puerto di navaserrata appunto ci fu una crono scalata nel 2008 ad esempio vinta da lei paimer davanti al contador suo compagno di squadra però la vuelta andò comunque a pannaggio del corrido spagnolo poi a metà percorso ci sono il puerto di navafria e il puerto di caniense entrambi ascesi di seconda categoria non durissime poi c'è il puerto della murchera discesa e subito dopo il puerto dei cotos che posto a 7 km dal traguardo praticamente il puerto dei cotos e puerto di navaserrata sono quasi la stessa salita a separare ci sono questi sette chilometri di pianura conclusivi il percorso è simile anche se non uguale a quello del 2015 con fabio arro che grazie a un perfetto gioco di squadra riuscì a strappare la maglia rossa a ton du moulin a proposito il corrido olandese proprio oggi ha annunciato il ritiro definitivo tra le competizioni e anche nel 2019 cibo battaglia in maglia rossa c'era roglic però la battaglia fu soprattutto per il podio e migrante lopez attaccò e riuscì a mettere in difficoltà tra dei pogaccia probabilmente se non ricordo male fu una giornata molto calda abbiamo parlato dei problemi di pogaccia con le alte temperature e tuttavia pogaccia si rifece due giorni dopo a plataforma dei gredos con una grande impresa e si riprese il podio dietro a roglic e a valverde e davanti appunto a migrante lopez attendiamoci comunque grande battaglia anche in questa occasione anche perché appunto si tratta dell'ultima tappa di montagna di questa volta la ventunesima tappa ecco vediamo prima le salite di giornata questo è il puerto della maserrada non sono salite durissime il puerto della maserrada presenta una punta al 13 per cento ma per il resto le tendenze sono costanti 3 7 8 per cento negli ultimi 7 chilometri poi c'è il puerto della mortera una salita anch'essa analoga di che diventa più dura man mano che si sale il tratto più duro è proprio quello posto in prossimità della retta anche se c'è una punta del 12 per cento in precedenza e poi invece leggermente più pedalabile il puerto del cotos la prima parte intorno al 4 5 per cento e poi invece la tendenza aumenta leggermente gli ultimi 5 6 chilometri sono intorno al 6 7 per cento però è una salita non durissima però veniamo al ventesimo giorno di gara e con le altre salite precedenti nelle gambe probabilmente è questo la tappa più impegnativa di questa vuelta quanto meno per quanto riguarda i chilometri di salita poi anche poi per altri potrà essere invece quella della sierra nevata o qualche altra ancora e comunque questo è quanto e si conclude con la ventunesima tappa la passella finale dalla las rosas a madrid e quindi torna ad ospitare la frazione conclusiva della vuelta dopo che un anno fa si era la stessa si è invece conclusa con una crono a santiago con postela una tappa di 96,7 chilometri che ovviamente vedrà battagliarsi per quanto riguarda il successo di giornata i velocisti bene abbiamo concluso tanti arrivi in salita una crono squadre una crono individuale completamente piatta non ci sono tapponi vari e propri a livello neppure non sono neppure a livello di quello dell'aprigo al giro d'italia per esempio tappe tutte di un ghezza simile tra 150 e 190 chilometri però appunto tanti arrivi in salita questa è la caratteristica peculiare che poi un po' tipica della vuelta ci vediamo quindi tra due giorni per un nuovo video con cui vi presenteremo i protagonisti al via vi ricordo i due canali telegram ciclismo grandi giri e ciclismo grandi giri 2 e vi do quindi appuntamento al giorno 18 alla vigilia di questa vuelta 2022 ciao a tutti